il conte dell'ormeren aveva appena finito di vestirsi dette un ultimo sguardo alla grande specchiera che occupava tutto un pannello del guardaroba e sorrise era ancora un gran bel uomo anche se i suoi capelli erano grigi alto snello elegante senza pancia il volto magro con un paio di baffi sottili un colore incerto che poteva ancora sembrare biondo aveva un bel portamento un tratto nobile pieno di distinzione quell'eleganza insomma quel non so che che fa distinguere un uomo dagli altri ancor più della ricchezza mormorò sei ancora vivo l'ormeren e fece il suo ingresso in salotto dove l'aspettava la posta sulla scrivania in cui ogni oggetto aveva un posto preciso scrivania ad un signore che non lavora mai aspettavano una decina di lettere e tre giornali di diverso colore politico con una sola mossa delle dita sparpagliò tutte quelle lettere come un giocatore può far scegliere ad altri una carta guardò le scritture come faceva ogni mattina prima di aprire le buste quello era per lui un momento di deliziosa attesa di ricerca e di una vaga angoscia che potevano dire quelle carte sigillate e misteriose quale piacere quale gioia o quale dolore contenevano se le studiava rapidamente con gli occhi riconoscendo le grafie poi le selezionava in due o tre gruppi a seconda di quel che poteva sperare da loro qui gli amici là gli indifferenti più discosti gli sconosciuti gli sconosciuti gli davano sempre un po' di turbamento che volevano quale mano aveva tracciato quei caratteri bizzarri pieni di pensieri di promesse o di minacce quel giorno una lettera attrasse la sua attenzione in modo particolare era semplice senza caratteristiche rivelatrici ma egli l'osservò con inquietudine con una sorta di brivido al cuore pensò chi può essere ho già visto certamente questa scrittura e ora non la riconosco la sollevò all'altezza del viso tenendola tra due dita con delicatezza nel tentativo di leggere attraverso la busta senza risolversi ad aprirla poi l'annusò presse dalla scrivania una piccola lente che usava per studiare i particolari delle grafie era irritato ma chi può essere? questa calligrafia la conosco la conosco bene debbo aver letto spesso altre lettere molto spesso ma questo fatto risale a molto moltissimo tempo fa di chi diavolo può essere? basta sarà qualcuno che mi chiede un plastito e strappò la busta poi l'esse caro amico mi avrete certamente dimenticata perché non ci vediamo da 25 anni ero giovane ora sono anziana quando vi ho detto addio lasciavo Parigi per seguire in provincia mio marito il mio vecchio marito che voi avevate soprannominato l'ospedale ho una figlia una bella ragazza di 18 anni che voi non avete mai veduto vedete notizia della sua nascita ma di certo voi non avete fatto caso a un avvenimento tanto importante quanto a voi siete sempre il bello ormarin me lo hanno detto e allora se vi ricordate ancora della piccola Lise che voi chiamavate Lison venite a cena stasera a casa sua dalla vecchia baronessa de Vance sempre vostra amica fedele che vi tende contenta e un po' commossa una mano devota che ora bisogna stringere e non più baciare il mio povero Jacqueline Lise de Vance il cuore di Lorne Rennes batteva più forte rimaneva inchiodato alla poltrona con la lettera sulle ginocchia e lo sguardo fisso davanti a sé mosso da un'emozione estruggente che faceva salire lacrime ai suoi occhi semmai aveva amato una donna nel corso della sua vita quella era lei la piccola Lise Lise de Vance che chiamava Fior di Cenere a causa dello strano colore dei capelli e del grigio pallido degli occhi che fine e graziosa affascinante creatura era quella fragile baronessa la moglie di un vecchio nobile gottoso e bitorzoluto che all'improvviso l'aveva chiusa in una città di provincia sequestrata per gelosia per gelosia del bellor Merin sì l'aveva amata ed era stato ricambiato credeva lei lo chiamava il Jacquelet nell'intimità pronunciando quel nome pronunciando quel nome con grazia squisita mille ricordi dimenticati gli tornavano in mente lontani e ora teneri e ora tristi una sera ella era entrata a casa di lui di ritorno da un ballo ed erano andati a fare una passeggiata al Bois de Boulogne lei scollatissima lui in veste da camera era primavera aria tiepida l'odore del suo corpetto la profumava l'odore del corpetto e anche appena quello della sua pelle che serata divina quando erano arrivate al lago poiché la luna sfiorava l'acqua passando tra i rami lei era scoppiata a piangere un po' sorpreso gliene chiese il motivo e la rispose non so la luna e l'acqua destano la mia tenerezza tutte le volte che vedo luoghi così poetici il cuore mi palpita e allora piango aveva sorriso commosso a sua volta perché trovava stupida e insieme deliziosa quest'ingenue emozione femminile una piccola donna travolta dalle sensazioni l'aveva abbracciata sussurrandole mia piccola Liz sei straordinaria era stato un grande amore breve e delicato finì presto troncato di netto da quel vecchio bestione del barone che aveva portato via la moglie senza mostrarla più a nessuno da allora con baranghe aveva dimenticato di amine nel giro di due o tre settimane a Parigi una donna scazza il ricordo di un'altra quando si è giovani non importa a lei egli aveva pur riservato un posto nel suo cuore perché in realtà aveva amato soltanto lei adesso se ne rendeva conto si alzò e disse a voce alta certo che verrò a cena stasera ed istinto tornò allo specchio per guardarsi dalla testa ai piedi pensava deve essere certamente molto più invecchiata di me in fondo era contento di mostrarsi ancora bello forte e di stupirla di intenerirla forse facendole rimpiangere quei giorni ormai trascorsi tanto tanto tempo prima tornò ad occuparsi di altre lettere non ce n'era nessuna che avesse importanza per tutta la giornata non fece che pensare a quel fantasma come sarà ora era divertente ritrovarsi dopo venticinque anni chissà se l'avrebbe riconosciuta fece toletta con civetteria ad una donna si mise un gile bianco quello che stava meglio con l'abito anziché quello nero fece venire il parrucchiere per arricciare i capelli che aveva conservato e partì di casa in anticipo per dimostrare la sua premura la prima cosa che vide quando entrò in un salotto graziosamente ammobiliato fu il proprio ritratto una vecchia fotografia un po' stinta che risaliva all'epoca trionfale della sua giovinezza appesa alla parete in una cornice civettuola di seta antica si sedette e aspettò dietro di lui si aprì finalmente una porta egli salzò di scatto e volgendosi scorse una vecchia signora con tutti i capelli bianchi che gli tendeva le mani le prese e le baciò prima l'una poi l'altra lungamente poi sollevando il capo guardò la sua amica eh sì era proprio una vecchia signora una vecchia signora sconosciuta che sorrideva nonostante avesse voglia di piangere non poteva fare a meno di mormorare siete voi Liz e la rispose sì sono io proprio io non mi avreste riconosciuta vero ho patito tanto tanto il dolore mi ha consumato l'esistenza ma adesso eccomi qui guardatemi o meglio no non mi guardate ma come siete bello ancora voi e giovane se mi avesse incontrato per strada avrei gridato subito jacquilè adesso sedetevi dobbiamo fare una bella chiacchierata poi chiamerò la mia ragazzina vedrete come mi rassomiglia o meglio come io rassomigliavo allora a lei no non va bene nemmeno così lei è identica a quel che io ero una volta vedrete ho preferito che da principio fossimo soli avevo paura di emozionarmi troppo in un primo momento ma ora è passato sedetevi amico mio egli si sedette accanto a lei stringendole la mano non sapeva cosa dirle non conosceva quella persona mi pareva di non averla mai veduta che era venuto a fare in quella casa di che avrebbero parlato dai tempi andati che c'era di comune adesso tra loro aveva perduto tutti i ricordi guardando quel volto da nonna non ricordava più tutte le cose tenere gentili e commoventi che lo avevano fatto palpitare poco prima quando pensava all'altra alla piccola lise alla graziosa fior di cenere che fine aveva fatto l'altra quella che lui aveva amato quella del sogno lontano la biondina dagli occhi grigi la ragazza che pronunciava così bene Jacqueline restavano vicini immobili irrigiditi entrambi turbati invagi da un profondo disagio visto che non riuscivano a dire che banalità e parole smuzzicate e la salzò e suonò il campanello fate venire René disse sudì un rumore di porte il fruscio d'una veste e poi una voce giovane esclamò eccomi mamma Dormerain rimase basito come davanti a un'apparizione balbetò buongiorno signorina poi volgendosi alla madre oh siete voi era davvero lei quella d'un tempo Liz sparita e ora riapparsa la ritrovava così come gliel'avevano portata via venticinque anni prima questa era ancora più giovane più fresca più infantile fu preso da un folle desiderio di aprire le braccia e stringerla di nuovo morborandole all'orecchio buongiorno Lison un domestico annunciò la signora è servita entrarono nella sala da pranzo che cosa accadde durante la cena che cosa gli fu detto e che cosa potei rispondere era dentro uno di quei sogni strani prossimi alla follia osservava le due donne con un'idea fissa nella mente un'idea morbosa da pazzo quale delle due è la vera la madre continuava a sorridere vi ricordate ritrovava i suoi ricordi nell'occhio chiaro della ragazza per venti volte fu sul punto di dirle vi ricordate Lison dimenticando la signora dai capelli bianchi che lo guardava teneramente e tuttavia in certi momenti non si raccapezzava più perdeva la testa si rendeva conto che quella dell'oggi non era simile in tutto a quella di ieri l'altra l'anziana aveva nella voce e nello sguardo in tutta la persona qualcosa che non ritrovava più e faceva sforzi prodigiosi per ricordarsi di com'era l'amica ad un tempo per recuperare quel che gli stava sfuggendo quel che non aveva la risuscitata la baronessa diceva povero amico avete perso il vostro brio e lui mormorava ci sono molte altre cose che ho perduto ma nel suo cuore sconvolto sentiva rinascere il vecchio amore come una belva ridestata e destinata ad azzannarlo la ragazza chiacchierava e qualche volta alcune intonazioni ritrovate alcune parole di un gergo familiare a sua madre e che ella le aveva rubato un certo modo di parlare e di pensare quella somiglianza d'animo e di comportamento che si acquisisce nella vita in comune scuotevano l'ormerain dalla testa ai piedi tutte queste cose lo penetravano come lame formavano una piaga nella sua rovente passione andò via molto presto e fece un giro sul boulevard ma l'immagine della ragazza lo seguiva lo ossessionava faceva battere il suo cuore dava la febbre al suo sangue ora che era lontano dalle due donne ne vedeva una sola la prima tornata giovane e l'amava così come l'aveva amata un tempo l'amava con più ardente passione dopo venticinque anni di attesa fece ritorno a casa per riflettere su questa situazione bizzarra e terribile e per pensare al da farsi ma mentre passava davanti allo specchio con una candela in mano davanti alla grande specchiera in cui si era contemplato e ammirato prima d'uscire vivì dall'immagine di un uomo anziano dai capelli grigi e subito ricordò come era una volta all'epoca della piccola Lise si rivide giovane e affascinante così come era stato amato e allora avvicinando la luce allo specchio si osservò più da vicino scoprì tante rughe e le spaventose devastazioni che non aveva ancora mai notato sino a quel momento e si sedette affranto davanti a se stesso davanti alla propria triste immagine mormorando tutto finito l'ormerè 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 l'ormerè